Una bellissima partita, giocata da due grandi squadre. Onestamente, stasera abbiamo giocato una partita di altissimo livello, che era quello che poteva servire per vincerla. Poi, naturale che negli episodi poteva succedere di tutto. Però credo che abbiamo fatto uno squillo importante in questa stagione, forse il primissimo, messo a segno al di là del fatto di giocarci per la prima volta alla semifinale. Ma abbiamo giocato contro grandi campioni, contro una grande squadra, credo che nei 45 minuti non abbiamo rubato niente, abbiamo meritato. Penso onestamente che la preparazione, l'esecuzione da parte dei giocatori del piano partita, tatticamente, ha fatto la differenza, cercando, nei limiti del possibile, di limitare un giocatore come Teodosic. ce l'abbiamo forzato a tante palle perse, a dei tiri fuori equilibrio, alternando uomo e zona. Credo che questo sia stato un elemento che ci ha fatto avere molta inerzia. Sono molto contento per i miei giocatori, perché credo che in pochi credessero in questa vittoria nostra. Questo è stato però un elemento importante per noi, perché è naturale che non stiamo giocando un grandissimo campionato, ma un'altra volta questa squadra si è coesa, è un momento importante, portando a casa una vittoria altrettanto importante, ripeto, contro una grandissima squadra come la Virtus Bologna.